Terzo punto di discussione. Il tema della giustizia. Io sono per la giustizia sempre, non per i giustizialisti. Io credo nei tribunali, non nei tribuni. Io rispetto le sentenze dei giudici, non le veline che violano il segreto istruttorio. Quando dico che noi siamo dalla parte della magistratura e invitiamo la magistratura ad andare a sentenza, noi non stiamo accusando la magistratura, noi stiamo rispettando la Costituzione italiana sulla quale abbiamo giurato. Ed è bene che il Parlamento sia consapevole di questa posizione del Governo. Questo Paese ha conosciuto figure di giudici eroi che hanno perduto la vita nella lotta contro la mafia, contro la camorra, contro la corruzione e contro l'illegalità. Ma questo Paese ha conosciuto anche negli ultimi venti anni, negli ultimi venticinque anni, pagine di autentica barbarie legate al giustizialismo.